Bruno Musacca, capo della segreteria tecnica del ministro del lavoro. Noi abbiamo considerato sempre previdenza, forme di assistenza sanitaria, previdenza integrativa come cose diverse l'una dall'altra. Credo che ci sia, sia ovviamente il portato del passato, ma anche proprio un ritardo culturale. Ho cercato di illustrare quali sono i contenuti e le motivazioni delle modifiche al regime pensionistico che saranno inserite nella legge di stabilità. Ogni paese ha le sue storie e alcuni elementi di virtù possono poi invece diventare, non dico vizio, ma elementi di difficoltà su altre partite. Faccio un esempio veloce che non riguarda i sistemi previdenziali. Noi tutti pensiamo al sistema di Flex Security della Danimarca o dell'Olanda, che sono effettivamente interessanti, ma non so quanto siano riproducibili di D'Amblay. La soluzione credo sia nel sviluppare le cose migliori che abbiamo, correggendo invece alcune strutture, ma senza pensare, come posso dire, cambi radicali che non avrebbero né consenso né possibilità di esseri.